All'Ibari Cafè seconda grande serata di selezioni per il torneo di ballo latino-americano intitolato La Corrida. Ancora una volta Max Latino è stato un mattatore della serata ed ha conquistato il pubblico dell'Ibari Cafè a corso numerosissimo per giudicare gli aspiranti ballerini in gara. Ecco le tre coppie di questa serata. La Salute Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. 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 Un minuto. Seconda coppia, vieni che ti presenti, chi ha ballato qui? Massimo, un passo avanti, ci presentiamo, Barbara, Feliciano, Feliciano vieni qua, un commento a caldo sulla performance del ballo di questa sera, un applauso, un applauso per loro, rifacciamo un attimo l'applauso per la terza coppia, un applauso, votiamo! Allora sicuramente Lorenzo dico bene? La coppia vincente nella seconda eliminatoria, la terza coppia, vanno direttamente alla finale. Mi aspettavate di vincere? Come è andata la gara? E' stato bene? Bene, bene. Qual è stato il ballo che vi è piaciuto di più? La Zomba? La Zomba. Avevate già ballato insieme in passato o è la prima volta? È la prima volta. E quindi vi aspettiamo tutti giovedì prossimo per un'altra fantastica puntata della nostra rueda e a chi se va e non se cammina!